L'obiettivo è far brillare tre stelle, quella della Michelin, quella della Mercedes e poi quella dell'Expo. Così Davide Oldani, chef del Do di Cornaredo, presenta Marco Polo, il nuovo van serie V di Mercedes. In attesa di scoprire le eccellenze degli oltre 140 paesi coinvolti, Davide Oldani, Stella Michelin e ambassador di Mercedes-Benz e di Expo 2015 Milano, ha proposto una piccola anticipazione del suo contributo all'obiettivo di Expo 2015, nutrire il pianeta e energie per la vita. Ha portato la sua cucina a bordo del nuovo Mercedes-Benz Marco Polo, il camper compatto ideale per viaggiare nel tipico comfort Mercedes al volante di una vettura che si avvicina molto al concetto di casa su quattro ruote, scelto dagli amanti delle vacanze all'aria aperta.